Quando nei giorni a venire libero l'uomo dal mondo primitivo a cui abbiamo fatto ritorno di tenebre ed orrore, il destino porterà la tua mano verso il volume dove giacciono dimenticati i miei versi e lo aprirai. So che sentirai la mia voce raggiungerti, non da quei vecchi caratteri, ma dalle profondità più vive delle tue viscere, con un affanno senza nome che saprai dominare. Ascoltami e comprendi, nel suo limbo la mia anima forse ricorderà qualcosa e allora dentro di te i miei sogni e desideri troveranno infine una ragione e io avrò vissuto.